ciao a tutti eccoci per un nuovo tutorial della settimana oggi andremo a creare insieme dei segnalibro è un'idea che io ho voluto realizzare ma che da sfogo a molte utilità in questo caso ho utilizzato anche dei colori che potrebbero andare bene per la festa del papà e quindi per un papà che legge e ha bisogno di un segnalibro può essere anche un segnaposto e quindi essere utilizzato ora nelle cerimonie tipo le prime comunioni che sono del periodo tutt'al più può essere anche un'idea e mi porta anche già molto avanti anche per la festa della mamma quindi stessa storia della festa del papà se è una lettrice può utilizzare un segnalibro in questo caso io vi ho mostrato già come ho creato il mio primo segnalibro e vado a ricrearlo allo stesso modo con del feltro però colore russo le misure sono 29 cm di altezza per 4 cm di larghezza io poi vado a piegare il mio foglio di feltro il feltro tenete presente che di un millimetro un millimetro e mezzo vado a piegare il mio strato di feltro e nella parte chiusa quindi non quella aperta sotto qui mi centro quella che è la metà e vado con una forbicina creare un forellino questo perché perché mi permetterà di fare l'occhiello per poi andarci a inserire andarci a inserire il nastrino potete benissimo anche utilizzare a di là del del nastrino una cordicella una corda potete anche metterci una catenina e quindi fanno diventare un porta chiave ci sono molte utilità utilità quindi come vi dico sempre utilizzate la fantasia a questo punto una volta che io ho bucato bene mi vado a prendere un cancetto un anellino che serve proprio per creare questa specie di forellino prendo la mia finza allora di norma ci sarebbe anche la parte retro però perché il effetto comunque già molto spesso o utilizzate un arnese più grande quindi con dei cerchi più grandi che possono andare a prendere in questo caso uno spessore di 2 mm oppure come faccio io utilizzo soltanto una parte perché nel momento in cui mi va a forare dall'altra parte prende tutti e due tessuti e quindi non si apre non avete il rischio che si apre una volta ottenuto il nostro cerchietto non ci resta che iniziare a fare quella che è la decorazione tipo tratteggio dei laterali cosa faccio prendo il mio filo lo metto in doppia e faccio un odino all'estremità dopo di che inizia già nella parte entro nella nell'interno per non far vedere quello che è il nodino e quindi lo nascondo nel centro riesco piano piano nello stesso punto e rivato sotto questo perché perché vado un po a bloccare quello che il punto iniziale tiro pochettino e ritorno di nuovo nella parte iniziale quindi la tratta da dentro verso fuori una volta fatto questo io devo prendere entrambi dei studi sia quello di dietro che quello davanti quindi mi vado a creare una filza avanti e indietro così solo che in questo caso fu riesco davanti vedete così e mi crea una filza tutto intorno questo anche per bloccare quello che è il mio segnalibro fatto questo passaggio diciamo che il nostro segnalibro è completato dovremmo andare soltanto a fare le decorazioni allora io vi faccio vedere come l'ho fatto però voi potete fare qualsiasi cosa per chi è bravo a disegnare può ricamare tipo un fiorellino ma questo lo può fare prima di andare a fare la cucitura intorno oppure potete mettere una scritta col vinile potete fare un sacco di cose io ovviamente cerco di essere quando più semplice possibile per adeguarmi un po a tutti quindi prendo delle stelle che ho tagliato con la gomma eva sia questa grande che questa piccolina le vado a soprapporre con un po di colla a caldo applico le stelle uno sull'altro dopodiché sulla stella grande nel retro al centro metto un po di colla e la stendo così leggermente tolgo i filetti in eccesso e lavato a mettere qui tengo un pochettino premuto così diventa abbastanza uniforme la colla inizia ad attaccare le mie letterine grazie a tutti attaccati tutti i pezzi ora non ci resta che andare a mettere il nastrino semplicemente lo faccio entrare nel forellino che io mi sono ricavata faccio in modo che la fantasia con pace dalla parte dall'altra e vado a fare un nudo piuttosto in alto cercando di essere pari con il mio nastrino quindi faccio il nodino qui così la parte di sopra io la vado a tagliare dritto per dritto perché non si portano più le salda e code di rondine come si soltira poi cosa faccio per tenerlo bello dritto nel centro metto giusto un pochettino di collo una puntina proprio e vado ad adagiare il nastrino sopra per tenerlo un pochettino fermo a questo punto il nostro segnalibro è giunto a conclusione spero che il tutorial sia stato utile per tutti quanti voi e come sempre mi invito a scrivervi al canale per chi mi sta guardando per la prima volta di lasciarmi un like se il tutorial vi è piaciuto e mi raccomando attivate la campanella per essere aggiornati ogni qualvolta io andrò a pubblicare un video tutorial vi do appuntamento sui miei social e e come sempre alla prossima ciao ciao